Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Trovate tutti i link nell'info box. Detto questo, chiamoci dentro col video. Il caso di Chiara Insidioso Monda Concerto e orrore. Il triste destino di Chiara però lo scopriremo più avanti, ora voglio raccontarvi di lei e della sua storia. Da bambina Chiara ha un carattere un po' chiuso, parla poco. I suoi genitori si sono separati quando è piccola e lei rimane a vivere col padre. Si sente messa un pochino da parte, non ha molti amici, ma il suo papà è la sua roccia, il suo tutto. Cresce a Roma e all'età di 16 anni inizia ad andare dalla psicologa mentre frequenta un istituto alberghiero. Norma Sardella, la psicologa di Chiara, la ricorda come una ragazzina che combatteva con la sua immagine. Aveva qualche chilo di troppo e proprio non si piaceva, ma è una condizione comune tra gli adolescenti, si sa. Grazie alla psicologa Chiara riesce a trovare una sua dimensione. Presta maggiore attenzione a cosa mangia, pratica un po' di sport andando in palestra ogni tanto, si prende cura di se stessa come non faceva prima e inizia a piacersi un pochino di più. La vita di Chiara si svolge nella frazione di Casal Bernocchi, alle porte di Roma, dove la ragazza continua ad avere poche amiche. Le sue compagne di classe la isolano, forse perché è timida e silenziosa e lei ci soffre tanto. Si sente sola e vive in un mondo tutto suo, spesso si rifugia nella sua stanza e ascolta la musica, oppure scrive sul suo diario. Ma c'è qualcosa che la fa sorridere e che soprattutto la fa sentire parte di un gruppo, ossia tifare per la Lazio, la sua squadra del cuore. Lo stadio dove va sempre col suo papà, gli altri tifosi, le trasferte. A Chiara basta vedere una sciarpa bianco celeste per essere felice. La ragazza inoltre adora follemente le canzoni di Laura Pausini e apprezza anche Vasco Rossi. I desideri di Chiara in realtà sono semplici, semplici come lei. Vorrebbe avere un ragazzo e degli amici con cui uscire, ma continua a vivere nel suo piccolo mondo perché soltanto così riesce a non soffrire troppo. Intanto gli anni passano e in quella camera da letto, che è sempre stata al suo rifugio, diventa maggiorenne. Per celebrare questo traguardo a Chiara viene regalato un cagnolino, un cucciolo di bulldog, quello sì che è un caro amico per lei. Lo adora e quando può lo porta sempre con sé, anche al centro commerciale. Tutte le mattine prima di andare a scuola è solita portarlo a passeggiare in un parco. È qui che conosce Maurizio Falcioni, la cui casa affaccia proprio sul parco. Chiara non gli dà subito confidenza, ma siccome anche Maurizio ha un cane, i due si incontrano spesso. Approfondiscono la conoscenza e ancora più iniziano una relazione segreta che rimane tra le mura del parco per un po' di tempo. Tuttavia un pomeriggio Chiara perde la cognizione del tempo, sta fuori molto più del solito e suo padre, che la tiene sempre d'occhio e si preoccupa per lei, la va a cercare. Sa dove trovare sua figlia, cioè al parco. Quando Chiara lo vede, si avvicina e gli confida subito di aver conosciuto un ragazzo. Si chiama Maurizio, proprio come il suo papà. Ha un cane e abita lì vicino. Il padre di Chiara, dinnanzi a questa notizia, si allarma immediatamente e le dice di non andare più in giro con quel ragazzo. La cattiva fama di Maurizio lo precede, tutti sanno che ha un balordo. Nel quartiere girano brutte voci su di lui, pare abbia messo le mani addosso a delle ragazze in passato. Poi, oltre a essere un violento, è anche troppo grande per Chiara, infatti ha 35 anni. Infine, non ha un lavoro fisso e vive di espedienti. Chiara però non dà ascolto alle raccomandazioni del padre e coltiva una relazione nascosta. Maurizio le piace, le dà attenzioni, la bacia, la coccola. Mentre il papà di Chiara è sempre più preoccupato, lei è felice perché finalmente ha un ragazzo, esattamente come le altre. Purtroppo Chiara è affetta da un lieve ritardo cognitivo, un'immaturità affettiva che la porta a non riconoscere i pericoli perché è indotta a provare un coinvolgimento emotivo quasi infantile. A un certo punto il padre di Chiara si rende conto che la figlia frequenta Maurizio di nascosto perché rientra a casa sempre più tardi e provando a non farsi sentire. Dunque le ripete ciò che le ha già detto in precedenza, ossia che Maurizio non è una persona per bene, che è un violento, soprattutto con le donne. Chiara però lo contraddice più volte, sostenendo che con lei Maurizio è esattamente l'opposto. Chiara, che è sempre stata una ragazza di poche parole, non motiva i suoi sentimenti. Ripete soltanto suo padre e ai parenti, come alla cugina, che vuole stare con Maurizio. Un giorno di dicembre del 2013 Chiara esce di casa la mattina per recarsi a scuola, ma non rientra al termine delle lezioni. Ha deciso di andare a vivere con Maurizio. Suo padre prova a trattenerla, ma la ragazza ormai è maggiorenne e può andare dove vuole. Inoltre le case di Chiara e Maurizio sono distanti a malapena 100 metri. Chiara però rimane spiazzata quando entra in casa di Maurizio, perché scopre che vive ancora con i genitori. La ragazza sperava di poter convivere da sola con il proprio fidanzato, ma lui non ha un suo appartamento. Maurizio dice a Chiara che c'è un posto dove possono stare da soli quando ne hanno voglia, ossia lo scantinato. In sostanza i due vivono chiusi in questo scantinato. Hanno paura di uscire di casa, perché il padre di Chiara potrebbe incontrarli e tentare di convincere la figlia a tornare a casa con lui. Il papà riesce ad avere contatti con Chiara soltanto quando Maurizio non è presente. Spende quel tempo al telefono cercando di convincerla a tornare a casa. La mette in guardia, ma Chiara gli ribadisce che Maurizio non è violento. Anzi, gli chiede di andarla a trovare qualche volta. L'illusione di vivere giorni felici finisce presto, perché iniziano litigi. Basta poco per scatenare la collera di Maurizio, che è sempre più geloso e convinto che Chiara, lo tradisca. Tuttavia lei non dà ascolto a nessuno, anche quando iniziano le prime violenze. Dinanzi a un Maurizio sempre più possessivo e manesco, Chiara reagisce scrivendogli questo bigliettino. Voglio solo te. Quando lo comincio a capire, come te lo devo far capire? Ho sbagliato, non dirtelo subito, ma pensavo che facevi come l'altra volta con il telefono e ho voluto evitare. Perché ti devo dire di sì? È vero, mi vedo con un altro, quando non è così? Al primo posto ci metto sempre solo te. Se lo vuoi capire bene, altrimenti non so che dirti. Ti amo, scemo. Le loro comunicazioni sembrano ordinari messaggi scambiati tra due adolescenti innamorati. Anche se Maurizio non è un adolescente e, soprattutto, la violenza non deve mai essere qualcosa di accettabile. Chiara però si è innamorata e, di fronte agli episodi in cui Maurizio è violento, si convince che abbia soltanto bisogno di aiuto e che lei glielo darà, che supereranno questa fase. In verità, Chiara da sola non può fare nulla. Maurizio la controlla e ogni volta che lei esce o è insieme a lui o è in compagnia di qualche suo parente. Chiara ormai è totalmente soggiogata, non riesce neanche più a fare una telefonata con riservatezza. Il papà di Chiara dunque inizia a seguire la figlia e Maurizio per casal Bernocchi. Vuole essere sicuro che lei non si trovi nei guai, che stia bene. Preoccupato, decide di sporgere denuncia. Che Maurizio abbia problemi con l'uso di certe sostanze nel quartiere è risaputo, ma il padre di Chiara è convinto che abbia fatto il lavaggio del cervello a sua figlia, che lei sia in concreto pericolo. Glielo ripete spesso, Chiara, questo ti ammazza. Purtroppo la denuncia cade nel vuoto, in quanto Chiara è maggiorenne. Allora il papà va a parlare con il padre di Maurizio, ma anche in questo caso non riceve aiuto, anzi il padre del giovane dice che in passato Maurizio gli dava molti problemi, mentre adesso è tranquillo. Infine, il padre di Maurizio chiude la discussione con una minaccia, dicendo al papà di Chiara di andarsene e di fare attenzione perché se l'avesse visto in giro, l'avrebbe investito con la macchina. Sono passati quattro mesi dal loro primo incontro, quando Chiara torna a casa. Tuttavia ci resta poco perché è innamorata, non riesce a fare a meno di Maurizio e fugge per ritornare da lui. Però, di nuovo sotto lo stesso tetto, le liti tra Chiara e Maurizio diventano continue. Il padre di Chiara nel giro di poche settimane si rivolge tre volte ai carabinieri per segnalare questa situazione pericolosa. Finché il primo gennaio del 2014 sono le stesse forze dell'ordine a intervenire durante una violenta discussione e Maurizio viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Maurizio però non si lascia intimorire dalle denunce. Ossessionato dalla gelosia, basta un nulla per farlo infuriare. Basta semplicemente che Chiara tenga in mano il cellulare. È il 3 febbraio del 2014. Maurizio chiede alla sua matrigna dove sia Chiara. La donna risponde che è di sotto nello scantinato dove va sempre le stesse cose. Ascolta la musica, usa il cellulare, chatta un po'. È sufficiente questa informazione per far esplodere Maurizio che si precipita nello scantinato e inizia a picchiare Chiara. Neanche sa con chi lei stia chattando e non gli interessa, secondo lui lo sta tradendo. Poco tempo dopo i due vengono chiamati di sopra perché è pronto il pranzo. Il padre di Maurizio, nonostante veda che a Chiara sanguina il naso, fa finta di niente. Sa bene qual è il problema di suo figlio. Sa che è un violento, ma non si intromette. Non ha alcuna reazione. Dopo pranzo Maurizio porta via Chiara, vuole incontrare il ragazzo con cui stava chattando. Prima di uscire però, le rimette le mani addosso. Maurizio talmente rabbioso che butta dalla finestra un televisore e una bottiglia di vetro. Sono circa le 17 del 3 febbraio quando i vicini di casa vedono i due ragazzi uscire. Maurizio tira Chiara per i capelli, la afferra per il viso, le chiede con chi si stia sentendo. Chiara stava chattando con un suo coetaneo, un ragazzo conosciuto in un bar. E Maurizio, alla notizia, viene totalmente offuscato dall'ira. Quando la coppia ritorna a casa, rincominciano le urla e il pestaggio. Maurizio colpisce Chiara, che sbatte contro una porta e cade a terra svenuta. Non contento, l'uomo la prende a calci con addosso le scarpe antinfortunistiche che hanno la punta di ferro. Le massacra la testa. Dopo ore, tutto si placa. C'è silenzio. Poi Maurizio bussa alla porta di casa della vicina e dice che Chiara è caduta. La fronte del giovane è macchiata di sangue e in un lago di sangue la vicina ritrova la piccola Chiara, accasciata nello scantinato. La donna si allontana e chiama il 118. Ritorna poco dopo con suo marito per avvisare Maurizio. Che prende a minacciarli? La polizia lo avrebbe arrestato. Quindi devono raccontare che Chiara è caduta e si è fatta male. Un incidente domestico che può capitare. Nulla di più. Ovviamente quando i soccorsi arrivano capiscono fin da subito che le ferite della ragazza non sono compatibili con una caduta o un incidente domestico. La verità è che Chiara è stata massacrata a furia di calci. Il papà di Chiara aveva timore per lei ma non poteva immaginare che il compagno l'avrebbe sottoposta a una tale violenza. I carabinieri si mettono in contatto con lui e gli dicono che Chiara è in ospedale ma non gli riferiscono le sue condizioni nel dettaglio. Chiara è in coma. Si teme per la sua vita e Maurizio viene arrestato. Intanto il padre di Chiara racconta in un'intervista Non avevo mai condiviso quella convivenza e continuavo ad oppormi quando mia figlia aveva lasciato casa per andare a vivere da lui. Ho sempre pensato che lei fosse stata circuita. Lei non mi ha mai raccontato di violenze. A questo punto c'è il rischio che possa avere subito altri pestaggi. La ragazza è ricoverata in rianimazione nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo Forlanini. I genitori, entrambi presenti, vengono informati costantemente del personale medico sulle condizioni della figlia. Permane la notevole gravità della situazione, dice Aldo Morrone, direttore generale dell'ospedale. Dagli esami effettuati, risonanza magnetica e TAC, si riscontra un danno molto pesante ed esteso all'emisfero sinistro e al tronco encefalico. Il cervello di Chiara ha sofferto di grave ipossia e anossia. Oltre a questo cospicuo danno cerebrale, la 19enne riporta lesioni alla milsa in varie parti del corpo e una frattura all'orbito oculare. I familiari, dichiara, non si danno pace. Sono tanti gli amici e i parenti che cercano di stare vicino ai genitori della giovane vittima dell'aggressione, stanziati all'ingresso dell'ospedale San Camillo. Deve essere fatta giustizia. È stata una belva, una violenza atroce. La legge bisogna rispettarla, non si può ridurre una persona così. Bisogna dargli l'ergastolo, dicono. La vicenda dichiara che ha vissuto in casa con un orco è agghiacciante. Spero ci sia estrema severità nella pena. Si augura il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ha visitato la ragazza in ospedale. Aggiunge Intanto, Maurizio Falcioni lo ammette come se fosse una giustificazione. È vero, ero geloso. Ho trovato sul suo cellulare i messaggi di un altro ragazzo e allora l'ho picchiata. L'ho ridotta in fin di vita. Nell'interrogatorio di garanzia avvenuto a Regina Cieli, Maurizio risponde alle domande del GIP Donatella Pavone e del PM Elena Neri, senza accennare nemmeno a un segno di pentimento, come spiegano gli inquirenti. Ha un atteggiamento che i magistrati definiscono quasi spavaldo e che convince il giudice a convalidarne l'arresto per tentato omicidio. Mentre Chiara è ricoverata nel reparto di rianimazione al San Camillo in coma farmacologico e le sue condizioni continuano a peggiorare, Maurizio racconta con distacco di averla sbattuta contro il muro nell'appartamento di Casal Bernocchi, che condividevano da novembre. Riferisce di averla guardata cadere a terra dopo averle distrutto la faccia con pugni e calci. Tutto per gelosia. Maurizio, che come detto a precedenti per consumo di sostanze e per resistenza a pubblico ufficiale, era per l'appunto sotto l'effetto di sostanze anche il giorno dell'aggressione. Il sospetto degli inquirenti è che Chiara sia stata picchiata tante altre volte. Sul corpo della ragazza, infatti, sono visibili segni di percosse precedenti a quelle che le sono quasi costate la vita. Una sequela di lividi e ematomi, che ha indotto i magistrati a contestare anche un'altra ipotesi di reato nei confronti di Maurizio. Maltrattamenti. Eppure non era mai stato denunciato per lesioni o violenze. Chiara non aveva mai raccontato nulla a nessuno, nemmeno a suo padre, che aveva tentato in ogni modo di salvarla. Voleva allontanarla da quel compagno attaccabrighe e prepotente che su di lei aveva una forte influenza. Come detto, Chiara soffriva già di un leggero ritardo cognitivo che la rendeva immatura, suggestionabile. Era sempre stata un po' come una bambina. Mentre Chiara continua a lottare tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del San Camillo, Maurizio, che ha ammesso con freddezza di averla quasi uccisa, respinge con forza l'ulteriore accusa sui maltrattamenti e si difende. La nostra relazione andava bene, non l'ho mai costretta a stare con me, non l'avevo mai picchiata prima. Racconta che Chiara era libera, che lo scantinato in cui abitavano insieme non era mica una prigione, ma un rifugio d'amore. Al piano di sopra, lo sappiamo, vive il padre di Falcioni insieme alla sua compagna. Com'è possibile che non si siano accorti di nulla? Parlando ai microfoni di Domenica Live, il padre di Maurizio risponde alla giornalista che gli chiede se difenda il figlio dalle accuse del padre di Chiara. Difenderlo? Io mio figlio l'ammazzerei, ora basta, mi sento male, domanda. Allora perché non ha provato a impedire la relazione tra i due? L'uomo risponde, io che centro? Loro due sono maggiorenni. Altra domanda, ma venivano da lei? Risponde, avevano una cameretta, vivevano insieme sotto da me e venivano a mangiare. Spiega. Altra domanda, non si è accorto di niente? Risposta, non ho sentito nessuno gridare. Chiara è solo salita e la mia compagna le ha messo un cerotto. Poi mio figlio ha detto che l'avrebbe accompagnata al pronto soccorso, io pensavo fosse inciampata. Conclude. Parole che il papà di Chiara è insidioso monda, non vuole ascoltare. Commenta. Non hanno senso adesso, lui doveva proteggerla molto tempo fa. Sa di avere un figlio tossicodipendente, violento. L'ultima volta che ho provato a far ragionare quella famiglia, il padre, che ora dice di non sapere niente, mi ha accolto con un pitbull accanto. Mi ha detto di andarmene e di non rompere più le palle. In ogni caso, per il papà di Chiara è già un miracolo che sua figlia sia ancora viva. Non ci sperava e andrà bene. Comunque vada. Chiara muove appena le palpebre e le braccia. Risvolti positivi che Maurizio non si aspettava. Il primo giorno pensavo che non sarebbe arrivata all'indomani, mi avevano detto non ci sperare. E invece sono passati 17 giorni. E mia figlia respira ancora. Ha delle reazioni. Magari sono solo meccaniche, però prima non le aveva. Per me, già, è un miracolo che ci sia. Il padre è presente tutti i giorni accanto a lei. Le parla e la carezza. Qualcosa succede, racconta, mentre sta per rientrare nel reparto di neurochirurgia. Le ho cantato l'inno della Lazio, so già due ore, quello che piaceva a lei. Tutti gli apparecchi si sono messi a suonare. Sono arrivati i medici. I battiti del suo cuore erano aumentati e la pressione si era alzata. Le ho stretto la mano parlandole. È successa la stessa cosa. Il cuore ha accelerato. Magari sono solo io che mi sto facendo delle illusioni. Un padre non si può rassegnare e si attacca a qualsiasi cosa. Però queste reazioni le ho viste. Muove le braccia. L'altro giorno si è anche scoperta. I medici però mi hanno gelato. Dal primo giorno non è cambiato niente. Chiara non ha speranze. Se sopravviverà sarà condannata a una vita senza vita. In stato vegetativo. Gli hanno prospettato. L'11 giugno 2014 emerge che Maurizio Falcioni ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Il giudice ha stabilito che sarà una perizia psichiatrica. Se Falcioni al momento del pestaggio fosse capace di intendere e di volere. Intanto davanti al tribunale circa 50 persone amici attivisti dell'associazione Hands of Women espongono uno striscione con la scritta Io sto con Chiara. Basta violenza sulle donne. Per la prima volta dopo la tragedia I familiari della ragazza ridotta in stato vegetativo incontrano l'imputato e lo guardano dritto negli occhi. Il papà di Chiara commenta dopo l'udienza Sono qui perché ho voluto guardare in faccia chi ha ridotto così Chiara. Spero che non riesca a farla franca con cavilli giuridici. Per noi oggi è stata una giornata emotivamente pesante. Chiara è ricoverata da oltre nove mesi all'ospedale San Camillo e le sue condizioni restano drammatiche. I medici le dovranno ricostruire parte della calotta cranica ma il rischio concreto è che resti in questo stato per sempre. Ad acuire il momento di tensione la zia di Chiara, sorella del padre che tenta di aggredire l'imputato ma viene fermata dagli altri familiari. Dopo undici mesi passati in un letto d'ospedale del San Camillo Chiara viene trasferita all'istituto Santa Lucia. Si riaccendono le speranze, i sanitari annunciano il suo risveglio dal coma. Chiara e la sua famiglia tornano a sperare dichiara il direttore della neurochirurgia dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma Alberto dell'Itala. In questi lunghi mesi Chiara ha subito tre interventi. Dopo un primo intervento drammatico in urgenza nella notte per evacuare l'ematoma che si era formato in seguito alle percosse si sono rese necessarie altre due operazioni chirurgiche al cervello e la ricostruzione della teca cranica con tecnologia avanzata elaborata al computer. È seguita una lunga e faticosa degenza prima nella terapia intensiva con i neurorianimatori del dottor Paolo Orsi poi nel reparto di neurochirurgia di Dell'Itala. Grande soddisfazione l'aveva manifestata il direttore generale Antonio D'Urso. Chiara ce l'ha fatta proprio il giorno dopo la giornata contro la violenza sulle donne. Questa notizia di buona sanità può costituire un messaggio di speranza. Da oggi la giovane sarà trasferita al Santa Lucia un centro di neuro-riabilitazione dedicato a questi casi una struttura in cui Chiara potrà proseguire quel lungo percorso di recupero in cui tutti noi crediamo. I familiari però smentiscono che queste siano le reali condizioni di salute della giovane. La notizia del risveglio di Chiara è falsa ma dico io come si fa a giocare sulla vita delle persone di Chiara infastidita la madre, Daniela. Chiara risvegliata? Magari. Se fosse vera la notizia che si è diffusa questa mattina non staremmo certo qui ma balleremmo di gioia. La verità è che purtroppo quello che hanno scritto non è vero aggiunge il papà. È passata dal coma vegetativo al coma vigilato. Ma quale grado di vigilanza abbia? Non lo sappiamo. Certo, quando le parlo con voce dolce come una bambina piccola e le porto un peluche lei mi risponde con un sorriso ma non si è svegliata e noi abbiamo il cuore rotto. Maurizio Insidioso dice ancora Il mio sogno è che un giorno possa sentirle dire una parola. Chiara non potrà mai più tornare come prima ma il fatto che sia stata trasferita in un'unità di risveglio è un piccolo successo. Poco dopo emerge che Maurizio Falcioni sottoposto a perizia psichiatrica viene ritenuto capace di intendere e volere ed è in grado di partecipare coscientemente al processo. Così Fabrizio Lecker, psichiatra e criminologo conclude la perizia affidata gli dal GUP Giacomo Ebner nell'ambito del rito abbreviato da definire il 19 dicembre 2014. Per il perito del giudice Falcioni è affetto da disturbo antisociale di personalità in soggetto con pregressi poliabusi di sostanze. In pratica l'imputato presenta disarmonie della personalità alterazioni di tipo caratteriale legate alla sua indole tali comunque da non rientrare nel concetto di infermità mentale. La condizione psichica di Falcioni alla luce della storia clinica delle risultanze delle indagini psicodiagnostiche della modalità che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto reato del 3 febbraio non risulta qualitativamente e quantitativamente sufficiente per conferire valore di malattia al delitto commesso non presentando detta condizione e connotazioni di intensità e gravità tali da pregiudicare totalmente o grandemente le sue capacità intellettive e volitive. Il papà dichiara il capezzale della figlia Santa Lucia dice riguardo alla perizia non avevo dubbi lo conosco quello lì c'è poco da commentare anche perché è indelicato entrare nel merito. Poi aggiunge non c'è ancora nessun passo avanti continua a vedere chiara assente non dà segni di coscienza mia figlia non c'è proprio muove solo gli occhi e prego che non capisca perché essere prigioniera del proprio corpo deve essere una cosa tremenda. A chi è esaltato per l'uscita dal reparto di terapia intensiva del San Camillo il padre dichiara ricorda Per un padre vedere la figlia così non si può chiamare miracolo rimarrà invalida al 100% e non è che un giorno si rimetterà in piedi le strade sono due se reagisce se c'è un piccolo segnale continuerà il percorso qui altrimenti se non dovesse rispondere alle sollecitazioni finirà in una clinica bianca di lungodegenza o a casa assistita chiedo almeno giustizia non capita tutti i giorni al cospetto del tribunale di Roma che un processo venga seguito con tanta emozione e tanta partecipazione quando in un'aula nell'edificio A del complesso di piazzale Clodio il giudice Giacomo Ebner legge la sentenza contro Maurizio Falcioni condannandolo a 20 anni di reclusione almeno una trentina di persone tra amici e conoscenti di Chiara cominciano freneticamente a battere le mani in segno di approvazione un applauso lungo e liberatorio si abbracciano, piangono dicono che è giusto così e maledicono quel farabutto l'ergastolo dovevano dargli strilla una donna anche se la massima pena non è tecnicamente applicabile il pubblico ministero ha dunque sostenuto l'accusa ossia Elena Neri anche lei visibilmente soddisfatta quando è scattato l'applauso si è percepito anche il magistrato sentiva di aver agito rispettando il volere del popolo italiano dietro al banco dell'accusa gli amici e i conoscenti della famiglia insidioso tutti venuti da Casal Bernocchi nell'estrema periferia sud aspettano che la legge in persona si pronunciasse riconoscendo che Maurizio Falcioni è colpevole e che non merita sconti Chiara non sarà più come prima ribadisce il papà abbracciando gli amici che si stavano commuovendo per lui ma la giustizia ha fatto il suo lavoro eppure Falcioni condannato in primo grado a 20 anni ha ottenuto uno sconto di pena in appello a 16 anni Chiara invece dal coma dopo 11 mesi è condannata a vita come dice la madre Danielle piangendo e inveendo contro i giudici al grido di vergogna alla lettura della sentenza in tribunale scoppia il caos alle urla della madre si aggiungono quelle delle persone vicine a Chiara il padre della ragazza dopo la sentenza si è sentito male ed è finito in ospedale Chiara rimane ridotta a uno stato vegetativo e i suoi progressi sono lentissimi il suo a neanche 21 anni è un vero calvario iniziato quella sera del 3 febbraio 2014 chiedo perdono a Chiara chiedo scusa per quello che ho fatto non volevo ucciderla aveva detto Falcioni ai giudici prima che questi si ritirassero in camera di consiglio Falcioni ha chiesto scusa a Chiara ma quell'uomo uscirà di galera mentre Chiara è condannata a vita lei non potrà fare più una vita normale e questo non è giusto si dispera la mamma Danielle consolata dagli amici è evidente anche il dispiacere dei legali di parte civile noi purtroppo adesso possiamo fare molto poco dice l'avvocato Massimiliano Santaiti poi preannuncia certo presenteremo istanza alla procura per sollecitare la presentazione del ricorso per Cassazione la volontà omicida di Maurizio Falcioni appare chiara e indiscutibile ma il fatto che non avesse abbandonato la vittima e che avesse consentito ai sanitari di darle soccorsi e cure è stato valutato ai fini della rimodulazione della pena per tali motivazioni la prima corte d'appello di Roma ha previsto questi 4 anni di sconto alla condanna inflitta motivazioni ritenute inaccettabili dall'avvocato per i giudici d'appello le vestazioni alle quali Chiara è stata a lungo sottoposta sono confermate anche da quanto dichiarato dai due vicini di casa così si legge nella sentenza i quali peraltro furono chiamati in soccorso dall'imputato allorquando aveva ormai constatato di aver ridotto la convivente in uno stato talmente grave da richiedere l'intervento dei sanitari inoltre il grave quadro clinico dal quale era affetta la vittima la sera del 3 febbraio 2014 è risultato inequivocabilmente conseguenza dell'azione violenta dell'imputato ancora per i giudici questa ricostruzione discende non solo da quanto riferito dai due vicini di casa in ordine alle urla e alle minacce che avevano udito proferire dall'imputato all'indirizzo della vittima per buona parte del pomeriggio ma anche alla luce del comportamento da costui adottato una volta aperta la porta di casa ai vicini ai quali intimò immediatamente di sostenere la tesi della caduta accidentale provata quindi come chiara e indiscutibile la volontà omicida di Maurizio Falcioni i giudici d'appello hanno ritenuto necessario intervenire sulla quantificazione della pena da infliggere a tal proposito si legge ancora nella sentenza risulta che l'imputato dopo aver realizzato la gravità delle condizioni di salute in cui versava la vittima a causa dell'aggressione da lui perpetrata chiamò i vicini di casa affinché a loro volta allertassero il 118 per fornire i primi soccorsi a chiara che comunque sono serviti quantomeno a salvaguardare il valore insopprimibile della vita della vittima allorché le condizioni della stessa siano purtroppo rimaste gravi e forse irreversibilmente compromesse sul piano psicofisico e relazionale il fatto però che Falcioni non abbia abbandonato la vittima e abbia acconsentito che fosse soccorsa e curata deve essere valutato non già ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche bensì a quelli della rimodulazione della pena in concreto applicabile da ciò la decisione di confermare l'impianto accusatorio riducendo però la condanna per tentato omicidio a 16 anni la posizione di Maurizio Falcioni si aggrava quando viene iscritto nel registro degli indagati per circonvenzione di incapace petta il GIP Fabio Mostar da stabilire se approfondire le indagini come detto il padre di Chiara aveva denunciato Maurizio Falcioni all'epoca in cui ancora non sapeva delle violenze subite dalla figlia ma aveva intuito che il compagno la manipolava e maltrattava così quando nel 2013 Chiara era sparita da casa Maurizio Insidioso Monda aveva presentato due denunce poi a gennaio 2014 un mese prima del pestaggio aveva denunciato Falcioni in procura per circonvenzione di incapace secondo il PM non è possibile procedere considerando questa accusa mancando un atto patrimoniale pregiudizievole per la vittima questa tesi viene respinta dall'avvocato legale della famiglia Insidioso che davanti al GIP discute l'opposizione alla richiesta di archiviazione ravvisa infatti che per chi commette il reato il vantaggio da conseguire non deve necessariamente avere una natura patrimoniale ma pure materiale o morale appunto il vantaggio dell'indagato era quello di aver assoggettato Chiara al proprio volere quanto alle condizioni di salute di Chiara a volte la ragazza muove il pollice o la guancia sorride ma c'è il rischio che questi progressi vadano in fumo infatti Chiara dovrà lasciare la struttura dove ha fatto tanti passi avanti per trasferirsi in una casa di cura altrettanto all'avanguardia ma che ospitanziali terminali con un livello di coscienza minore rispetto al suo dopo tanta fatica potrebbe regredire vedere compromesso il suo difficile percorso l'hashtag una casa per Chiara invade la rete sulla piattaforma change.org è online l'appello della petizione ma non è il solo lanciato nel giorno della visita del presidente Mattarella e del ministro Lorenzin alla clinica Santa Lucia la struttura riabilitativa che ospita ancora Chiara a lanciarlo è stata Gabriella Carnieri Moscatelli presidente di Telefono Rosa rivolgendosi a Mattarella Renzi Lorenzin e Zingaretti Chiara Insidioso Monda è una delle poche donne sopravvissute al femminicidio in una condizione di grave danno fisico e psichico un caso che lo Stato non può ignorare ma su cui ha l'obbligo di intervenire con una compensazione economica che le garantisca un accesso agevolato a forme di assistenza la consigliera regionale Marta Bonafoni ha scritto la petizione chiedendo al governo di mettere in campo misure economico-legislative per assicurare condizioni di vita e di cura adeguate ci sentiamo abbandonati ripete il padre Maurizio ci aspettavamo un sostegno visto che i medici ritengono che per Chiara la soluzione migliore sia la casa ma da noi non entra neanche la carrozzina in ascensore e siamo in affitto le cure costano la struttura dove sarà trasferita ha tutto il mio rispetto doveva andarci già sette mesi fa poi ha fatto dei miglioramenti non sta più con la bocca aperta a guardare il soffitto temo che possa fare dei passi indietro a livello medico non potrà usufruire delle terapie che le hanno permesso progressi è da ormai oltre un anno che il papà di Chiara sta cercando una casa adatta mia figlia tra pochi giorni lascerà la clinica per essere trasferita in una struttura ottima ma per pazienti che stanno peggio di lei potrebbe regredire anche i medici hanno detto che la soluzione migliore sarebbe una casa ribadisce Maurizio secondo il parere di medici e assistenti sociali la casa adatta alla giovane deve ospitare macchinari sedia a rotelle alzatore elettrico letto e mobili ospedalieri solo la stanza non può essere inferiore ai 40 metri quadri e la casa non meno di 100 per una paziente come Chiara precisa ancora Maurizio ci vogliono determinate condizioni non sono freddo ma in questi anni ho imparato a nascondere le emozioni aspetta a lui decidere se quella a casa nel nono municipio è adatta alla figlia ne ha parlato proprio Andrea Santoro il presidente del nono municipio di Roma annunciando di aver trovato una sistemazione adeguata per Chiara insidioso Monda potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per Chiara e la sua famiglia un appartamento di proprietà comunale nel municipio nono si trova a 15 minuti dalla fondazione Santa Lucia l'ospedale dove la ragazza sta seguendo il programma di riabilitazione e a 8 minuti da Casal Bernocchi dove Chiara è cresciuta poi Andrea Santoro aggiunge dopo un primo contatto con i referenti del Campidoglio che ci sono dimostrati subito sensibili promuovendo un incontro con il padre di Chiara per organizzare un sopralluogo e verificare ogni possibile adeguamento all'appartamento che a una prima osservazione sembra facilmente accessibile dispone di tre locali a piano terra e di un grazioso giardino ho accolto la sollecitazione dell'onorevole Michele Anzaldi che ieri ha chiesto una risposta delle istituzioni come pure ha fatto Telefono Rosa e sono certo che in questo caso il Campidoglio saprà superare ogni eventuale ostacolo burocratico per affidare l'appartamento attualmente inutilizzato a Chiara e alla sua famiglia l'incontro in comune tra il papà di Chiara insidioso Monda e il vice prefetto Clara Vaccaro sembra avere un esito positivo è presente anche Andrea Santoro che come detto è il presidente del municipio che ha proposto questa soluzione in vista della necessità che Chiara lasci la clinica Santa Lucia a breve i medici di Chiara faranno un sopralluogo per vedere le modifiche da portare all'appartamento appena mi danno l'ok faccio partire i lavori anche perché si sono fatti avanti diverse aziende a quel punto tempo un mese massimo un mese e mezzo nel frattempo Chiara potrebbe essere trasferita a Casa Iride la clinica di Torre Spaccata che ospita pazienti in stato vegetativo persistente forse è un bene secondo la mamma Daniel che sta insistendo affinché sua figlia rimanga ancora un po' a Santa Lucia è chiaro che voglio il meglio per mia figlia è una casa è la cosa migliore ma è ancora presto Chiara ha bisogno di assistenza H24 un giorno sta bene uno sta male come ha detto anche il primario ha bisogno di tanta riabilitazione da due anni la vita di Daniel è cambiata da lunedì al sabato esce sempre di casa alle 7.15 e va avanti e indietro tra Cerveteri e Roma per accudire la figlia prendendo bus e treni impiega ben tre ore ad andare e tre ore a tornare alle 15.30 stacca dal lavoro Maurizio il papà e viene a darmi il cambio ho le sue sorelle ho smesso di lavorare la mia vita è diventata questo vivo per Chiara qualcuno mi ha scambiato per la sua badante racconta schiva adirata ha lasciato spesso spazio all'ex tranne dopo il processo quando lui si è sentito male e lei ha preso la parola per la prima volta non le interessavano le telecamere o meglio i primi tempi non riusciva più a parlare dopo due anni ci prova sui social network a voce tramite il gruppo giustizia per Chiara spero anch'io che diano una casa a Chiara purché prosegua lo stesso standard di riabilitazione dunque dovrà ricevere un'assistenza domiciliare idonea mia figlia è migliorata comprende tutto ma non parlerà più è imprigionata dentro di sé col dito alzato dice sì chiude gli occhi per dire no ma non potrà mai comunicare con me non potrò vederla sposata darmi un nipote quell'assassino le ha tolto la vita si è approfittato della sua ingenuità le ha fatto il lavaggio del cervello quando fa buio la mamma di Chiara si mette in viaggio come un'automa mentre in stanza con la figlia da accudire come una neonata di sei mesi resta il papà la casa che all'orizzonte si prospettava come adeguata purtroppo non si è rivelata tale per Maurizio la situazione sembra così tornata al punto di partenza il padre della ragazza infatti ha rifiutato l'appartamento di proprietà comunale che il presidente del municipio nono Andrea Santoro aveva individuato come idoneo per ospitare Chiara altrimenti destinata a svolgere la faticosa riabilitazione in un pensionato era piccolo e non corrispondeva alle problematiche legate alla disabilità della figlia lo stesso Santoro venuto a conoscenza del rifiuto di Maurizio Insidioso ha scritto una lettera al deputato PD Michele Ansaldi che aveva seguito la storia di Chiara sollecitando le istituzioni locali a individuare una soluzione chiedendo di aggiornare anche il deputato Fabrizio Cicchito anche egli da sempre interessato alla vicenda Santoro scrive alcuni mesi fa raccogliendo i tanti appelli e le sue sollecitazioni aveva immediatamente individuato un appartamento di proprietà comunale che con alcuni adeguamenti poteva corrispondere alle esigenze della ragazza l'appartamento attualmente inutilizzato per una di quelle circostanze che hanno a che vedere con l'inefficienza burocratica è un trilocale di circa 65 metri quadri dispone di un ampio giardino dove Chiara avrebbe potuto ospitare i suoi amaticani si trova nel quartiere di Spinaceto a 15 minuti dalla fondazione Santa Lucia e a 8 minuti da Casal Bernocchi dove Chiara è cresciuta contavamo inoltre sull'aiuto di un'estesa rete di volontari disponibili a offrire la propria collaborazione per i lavori più classici di pulitura dell'appartamento eccetera ottenuta la disponibilità del commissario Tronca nel febbraio scorso ha proposto al padre della ragazza di visitare l'appartamento e di verificare con i sanitari gli adeguamenti da portare alle strutture dopo alcuni mesi dal primo incontro con il padre di Chiara il signor Maurizio Insidioso ha concretato il sopralluogo per la verifica degli spazi il risponso però non è positivo al telefono il signor Insidioso con un certo garbo mi ha comunicato che le valutazioni del suo architetto sono negative e che l'appartamento secondo loro non può essere utile per ospitare Chiara Santoro prosegue Chiara dunque finirà in un pensionato non possiamo permetterlo e penso allo stesso tempo che sia necessaria una verifica tecnico-sanitaria prima di bocciare definitivamente l'ipotesi non lasceremo Chiara da sola quell'appartamento se veramente non dovesse essere adatto a ospitarla stabilmente potrebbe essere affidato alla madre di Chiara che vive a Cerveteri e in questo momento si dedica all'assistenza della figlia e non lavora oppure potremmo lavorare con telefono rosa per allestire in quei locali un centro per le vittime di violenza nella lettera Santoro racconta recentemente sono stato a trovare Chiara le sue condizioni di salute restano molto difficili ma il programma di riabilitazione che sta seguendo all'istituto Santa Lucia un'eccellenza del nostro sistema sanitario le ha consentito diversi progressi nel suo percorso di recupero un gruppo di volontari in visita aveva portato a Chiara alcuni cagnolini e la ragazza che abbiamo incontrato nei giardini dell'istituto era davvero entusiasta e reagiva con larghi sorrisi all'affetto di quei cuccioli questi momenti di quotidianità sono evidentemente necessari al suo recupero tanto quanto le terapie mediche e non ve dubbio che è dovere delle istituzioni trovare per Chiara dopo questo primo percorso riabilitativo un alloggio che possa farle recuperare la quotidianità perduta nell'aprile del 2016 Giacomo Marini l'avvocato di Maurizio Falcione deposita il ricorso alla Cassazione e argomenta di delitto preterintenzionale perché il suo assistito avrebbe agito in un impeto di rabbia ma non voleva uccidere Chiara non è un tentato omicidio sostiene Marini si tratta di una storia drammatica e vorremmo che fosse ricondotta a criteri di ragionevolezza nell'interesse della giustizia e per dare a questi due giovani una nuova prospettiva di vita mi auguro che la ragazza possa migliorare le sue condizioni di vita aggiunge lui è molto dispiaciuto ed è in attesa di una diversa valutazione della sua storia e questo secondo l'avvocato potrebbe accadere anche con le concessioni di una nuova perizia psichiatrica negata a Falcione in appello tale diniego piuttosto è contenuto nei motivi del ricorso in Cassazione perché per il legale costituirebbe una violazione di legge in secondo grado il suo assistito era stato condannato a 16 anni conseguendo uno sconto di 4 anni dall'iniziale condanna a 20 sopraggiunge quindi la replica di Massimiliano che assiste la famiglia dichiara insidioso non me ne voglia il collega ma già l'appello doveva essere dichiarato inammissibile posto che trattavasi di una sola pagina di appello con una serie di motivi soltanto enunciati ma mai esplicitati quindi non idoneo rappresentare mezzo di gravame ecco perché ora confidiamo che il ricorso in Cassazione venga assegnato alla settima sezione ovvero sia alla sezione cui vengono assegnati i ricorsi inammissibili l'avvocato e lo stesso padre di Chiara Maurizio Insidioso si dicono fiduciosi nella giustizia e nella suprema corte a settembre 2016 la casa data Chiara è ancora un miraggio la mamma Daniel torna a chiedere aiuto perché le promesse dell'ex presidente del municipio Andrea Santoro non sono andate avanti la casa annunciata non è mai arrivata Chiara dimessa dopo molti progressi della clinica Santa Lucia si trova ancora a casa eride specializzata nell'accogliere persone in stato vegetativo persistente secondo la mamma questo è un passo indietro rispetto ai progressi che la figlia aveva compiuto e soprattutto una beffa dopo le rassicurazioni ricevute in campagna elettorale spiega Daniel il nuovo presidente del nono municipio Dario D'Innocenti è venuto a trovarci mi ha comunicato che la casa promessa dal suo predecessore deve essere assegnata con bando pubblico altrimenti l'assegnazione risulterebbe abusiva la corte dei conti sta chiedendo al comune di liberare tutte le case assegnate senza bando insomma nulla di fatto il nuovo presidente chiederà al suo collega del terzo se almeno possa aiutarmi a trovare un punto d'appoggio vicino a casa eride è una storia infinita questa nessun atto o bando pubblico è stato seguito dopo la delibera di giunta di innocenti conferma stiamo cercando una sistemazione per la mamma vicino alla struttura dove ospite la figlia la mamma vorrebbe per Chiara un ambiente più stimolante intanto noi ci stiamo muovendo per renderle gli spostamenti meno difficili Chiara intanto mostra segni di lucidità che fanno ben sperare ma comunque ha ancora necessità di essere monitorata e di un'assistenza H24 un percorso lungo che potrebbe portare ad altre conquiste ma comunque in salita insignificanti se non offensivi oserei dire sono anche gli aiuti per la ragazza previsti dallo Stato infatti ascoltate bene a fronte di un costo mensile da sostenere che ammonta circa 2000 euro Chiara percepisce un assegno di invalidità di soli 800 euro e a suscitare maggiore indignazione è il risarcimento per i danni che ha ricevuto visto che il suo aggressore è nulla tenente lo Stato ha istituito un fondo che corrisponde a una cifra irrisoria soltanto 3000 euro sono dati che vanno in netta contraddizione con l'impegno che molti politici soprattutto donne sembrano mostrare quando si discute accuratamente di violenza di genere come evidenzia un servizio della trasmissione Le Iene che risale al 2017 in ogni caso dal rifiuto dell'appartamento proposto da Santoro tutto è fermo uno più grande e adeguato non è stato trovato e Chiara continua la sua lenta riabilitazione a casa iride quantomeno non c'è nessun altro sconto di pena previsto per Maurizio Falcioni grazie a Dio la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso che come ritengono i giudici non è basato su motivi specifici la condanna per Falcioni a 16 anni di carcere con l'accusa di tentato omicidio potrebbe dunque diventare definitiva l'imputato ha sperato in vano di ottenere dalla Cassazione la derubricazione del reato in lesioni e una nuova perizia psichiatrica oltre al riconoscimento dell'attenuanti l'unica sua consulazione comunque non magra resta l'alleggerimento della pena 16 anni di carcere sono pochi per quello che ha commesso a mio avviso oggi Chiara si trova ancora a casa iride la struttura della periferia est della capitale che come detto è indicata per persone in stato vegetativo e di minima coscienza lì ahimè non può ricevere la riabilitazione e le terapie che l'aiuterebbero a migliorare ancora dopo i grandi progressi compiuti in questi anni Chiara è lucida cosciente e comunica come si vede bene in un recente video che ho girato con lei spiega la mamma di Daniel eppure vive ancora isolata dal mondo in una struttura in cui non può avere rapporti con nessuno se non con me quando vado a trovarla con la pandemia la situazione si è aggravata così come la condizione di isolamento di Chiara per molto abbiamo potuto vederci solo attraverso un vetro oppure in videochiamata riferisce la mamma che nel frattempo ha raccontato la storia di Chiara e la propria lotta nel libro Fiore d'acciaio aggiunge deve uscire al più presto ha già aspettato troppo ha diritto a una seconda possibilità soprattutto viste la forza la voglia di vivere che ha dimostrato più forti della violenza subita sua mamma combatte estrenuamente dal 2015 per ottenere il trasferimento di Chiara in una struttura idonea ma come abbiamo visto la strada è davvero lunghissima e tortuosa a quanto pare non è sufficiente un decreto del giudice per raggiungere finalmente il traguardo concludo questo video riportandovi le ultime parole di Daniel alla fine del 2020 ho chiesto tramite il mio legale una perizia per Chiara ci sono voluti ben 18 mesi per ottenerla il 18 maggio scorso c'è stata finalmente l'udienza della giudice tutelare di Chiara che sulla base di quanto rilevato dal perito ha riconosciuto chiaramente che Casa Iride non è la struttura adeguata per Chiara e ha disposto il trasferimento urgente suggerendo due possibili strutture una a Imola l'altra a Treviso ad oggi ancora non sappiamo niente Chiara continua a vivere a Casa Iride ho chiamato le cliniche di Imola e Treviso per sapere se Chiara fosse almeno nella lista d'attesa ma mi hanno detto di no io non so cosa pensare so solo che così non va bene Chiara deve essere trasferita il più presto questo complicherà molto la mia vita ma sarà per il bene di Chiara e questo è l'importante vorrei portarla nel mio paese in Olanda dove c'è una clinica per ragazzi dei 18 ai 36 anni ma non mi viene permesso neanche questo e non capisco perché sarebbe un gran risparmio per l'Italia quel che è certo è che due mesi dopo il decreto che dispone il trasferimento urgente Chiara è ancora a Casa Iride chiedo che finalmente si trovi la struttura adatta a lei e che sia data una nuova possibilità mia figlia che lotta tina cementi per rientrare in contatto con il mondo ragazzi ho finito di parlare in questo video per me non è stato un video semplice da girare né un video semplice da scrivere allora credo sia tremendo tremendo che una vittima si trovi in queste condizioni non so vi giuro non so se è meglio l'omicidio o un risultato del genere non lo so ci sto pensando da tanto tempo perché da tanto tempo conosco questa storia ma non sono ancora riuscita a raggiungere una conclusione quel che è certo è che Chiara non è più Chiara Chiara non sarà più quella ragazzina che ascolta Laura Pausini che ascolta Vasco Rossi che va a seguire le partite di calcio con suo padre che va in trasferta con suo padre Chiara non sarà più questo tipo di ragazza e non potrà neanche diventare una donna purtroppo semplicemente perché è davvero prigioniera di se stessa io ho visto dei video di Chiara ed è davvero così è prigioniera del suo corpo è un caso terribile questo è un caso terribile e io spero realmente che Chiara possa avere una casa tutta per lei una casa accogliente con un bel giardino spero che possa avere tanti cuccioli attorno a sé che la rendano felice e niente ragazzi questo è un caso che davvero mi ha spaccato a metà il cuore quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso come al solito vi dico sempre questa cosa ci becchiamo nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti a tutti